Sì, buon pomeriggio, la vedete la nave bianca e rossa sta entrando qui nel porto, approderà al Molo 21, quindi praticamente tra pochissimi minuti, minuti 106 i migranti a bordo, 32 sono minori, purtroppo ci sono anche due persone decedute, tra queste una donna, la mamma di un bimbo che invece è salvo, a bordo c'è anche il papà del bambino. Arrivano da Gambia, Nigeria, Sudan, Costa d'Avorio, 20 di loro ricorreranno a cure ospedaliere, quindi saranno i primi a scendere dalla nave, scattata la macchina dell'accoglienza con la ASL, la prefettura, i mediatori culturali e c'è stata anche una sorta di sit-in, di protesta, di movimenti e comitati che dicono non si può continuare a morire in mare, prima si salva e poi si discute. Ma adesso vediamo queste interviste e poi torniamo in diretta. Qual è il primo approccio che avete, soprattutto con i più piccoli? Il senso del nostro intervento sta proprio nella parola accoglienza, significa che noi le accogliamo con un benvenuto, con un sorriso, cerchiamo di trasmettere loro un senso di protezione e di sicurezza. Spesso i bambini comunicano attraverso i disegni e che cosa è più frequente nei disegni dei bambini? Disegni drammatici, insomma di violenze, molti riportano la famiglia, le violenze che hanno subito, il mare, la traversata. Molti bambini, molti adolescenti, sono loro a partire? Parte chi è disperato, parte chi ha necessità, parte chi la famiglia ritiene possa avere ancora una speranza di sopravvivenza e di un futuro migliore. Non è abbandono quello a cui assistiamo ma è la consegna alle generazioni più giovani di una speranza di futuro. 22 minori stranieri non accompagnati. Anche su loro ovviamente verrà fatto prima uno screening sanitario e poi verranno portati temporaneamente per 24 ore all'ospedale del mare per poi essere trasferiti in quella struttura che è stata individuata, d'intesa con il comune a Miano dove appunto sosterranno per un po' di giorni per poi essere distribuiti, essere diciamo collocati nella rete SAI. Grazie a tutti. Grazie a tutti.